Buongiorno amici, voglio fare una bella face jam con voi, estemporanea, sono qui ho trovato una luce bella sto pensando ai vostri allenamenti, allora innanzitutto come sta andando il vostro beauty routine? noi dobbiamo detergere, idratare, utilizzare seri e creme sia la mattina che la sera possiamo anche cambiare il prodotto che usiamo la sera e la mattina perché non vogliamo mai utilizzare qualcosa di aggressivo la mattina perché poi andiamo fuori al sole e potrebbe essere troppo aggressivo proprio durante la fase diurne possiamo fare i peeling, le scrub la sera e facciamo detergere e mettiamo delle creme la mattina protettive più SPF e mi raccomando alti 50-100% per aiutare la pelle però oggi volevo andare a fare un po' di stretching per la faccia, stretching per i muscoli e stretching per aiutarci ad avere altri esercizi per la faccia allora partiamo proprio dalla fronte, tirando qui, proprio tirando verso alto ok, guarda giù e chiudi gli occhi, ok facciamo 10 sposta, tira su, tira su e vai, altro 20 uno dei 10 centrale su, di nuovo, guarda in giù, 10 più 10 adesso andiamo a andare all'altezza del zigomo, tiro indietro il zigomo e andiamo a soffiare le candele della nostra torta e dalle mascella, di nuovo, andiamo, soffio, soffio, soffio ancora 10 ancora 10 tiro giù il collo, allungo il mento e porto il mento sempre in avanti per allungare il collo e poi tiriamo qua e tira, tira standy, 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 standy che è la sera per essere sempre il massimo di noi stessi. Baci dalla Jill!